Ciao a tutti ragazzi, siamo gli at4tube, qui Saxi e vi vorrei giusto dire una piccola cosa. Ehm, purtroppo non sono riuscito a fare un video ieri, perché? In poche parole sembra che il mio computer sia un grandissimo bastardo e figlio di puttana, ma in una maniera assurda, perché tipo io ho fatto un video riguardante The Witch House, no? Soltanto che lo stronzo ha deciso di non registrare, quindi mentre io stavo tranquillamente giocando il computer non registrava e che dire, il video è andato a puttana. Ehm, quando uscirà poi un prossimo video di The Witch House, vedrete tranquillamente a che punto sono arrivato. Mi dispiace tantissimo che non sono riuscito a portarvi un video ieri, però il mio computer ha fatto lo stronzo. Poi a un certo punto, quando ho provato a registrare di nuovo, a fare altre cose, ha deciso proprio di eclissarsi completamente e io per farlo riprendere l'ho dovuto prendere a calcio e pugni. E mi sono incazzato così tanto che me ne sono uscito di casa. Ehm, quando sono ritornato, ormai era troppo tardi per fare un video. Ehm, visto che era incazzato a morte col figlio di puttana, ho detto, fa un culo, fa un culo, muori, muori. Ehm, odio il mio computer, non si è visto, eh? Beh, lo odio, ma in una maniera proprio che non potete manco capire. Ehm, oddio. Che dire? Ehm, mi scuso ancora tantissimo con voi se non sono riuscito a portarvi nessun video. Ehm, purtroppo questa qui era nuda e cruda verità, il mio computer è bastardo. Ehm, niente. Ehm, magari riesco domani a portarvi un video speciale. Ehm, dove ci sarà, diciamo, una specie di rimpatriata. Ehm, con la famiglia per Pasqua, naturalmente, per via, proprio, delle festività di Pasqua. Piuttosto, piuttosto. E, auguri a tutti quanti gli studenti che, finalmente, ci hanno dato una cavolo, una cavolo di pausa da tutto questo periodo scolastico. Veramente non se ne poteva più. Madonna, la scuola è veramente insopportabile, certe volte. Un po' di pausa fa sempre bene. E non serve soltanto la domenica. Oh, oddio. Pensare che poi tra poco ci tocca pure ritornarci. Ah, ci tocca pure ritornarci. No, 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 no. Non è così. No, oddio. Scusate, ma sto veramente col cervello fuso, perché ho provato di nuovo a... A fare qualche cosa, ma niente, il computer è ancora più stronzo di ieri e... Tra poco lo prenderò a colpi con la sedia, lo prenderò a schiaffi con una sedia. E... E credo che lo lascerò lì morto. No, vabbè, a parte gli scherzi. E... Comunque sto dicendo auguri a tutti quanti gli studenti a cui finalmente sono state date queste benedette vacanze. E... Ci vediamo domani... Con... Spera questo video qua speciale. E in questo video qua speciale credo quindi che ritroverete Axel. Persino Smoke, persino Smoke, da che ci penso? Cioè, ma da quanto non vediamo Smoke noi, eh? Ma da quanto? Da quanto non vediamo il nostro carissimo Smoke che lui... Tipo da secoli che non fa un video con noi... Da secoli che non viene qui a casa nostra, maledetto. Maledetto! Te ne sei andato via, eh, maledetto. Ti sei perso, dirlo. No, vabbè, a parte le minchiate, a parte le stronzate. E... Beh, dai. E... Ci si vede poi domani. E... Questa qui doveva essere la mia... E... Vestaglia Porta Fortuna e mi vedete spesso con questa qui. Quindi... Io purtroppo non l'ho indossata, questa qui mi ho indossata un'altra con versione... Completamente celeste, mi ha portato spiga, ecco perché. E... Adesso mi sono messo la mia vestaglia Porta Fortuna per dire... Madò, speriamo che almeno questa volta il video col cellulare esce. E... Che dire, niente. E... Troppe volte sto dicendo che dire. Porca miseria a me. E... Ci vediamo... Ci vediamo domani con questo... Con il video speciale. E... Con la nostra rimpatriata di famiglia. E... E si spera che riusciamo poi a portarvi nuovi video anche con... E con il computer. Visto che dopo tutto ho fatto un piccolo acquisto. Oltre che la webcam finalmente ho anche un microfono pure. Cioè mi sono... Ci abbiamo tutte e due le cose adesso. Yeeeh... Perché prima come ho detto registravo... Sempre con... Questo computerino. Sì, vedete il computer ormai impregnato di polvere. Sì, quello lì è... Il computerino con cui registravamo. Credo che forse era meglio se registravamo ancora con quello lì. Però che ci attacco lo spinotto del... Del microfono, va? Forse faccio la meglio cosa perché sennò veramente qui è un dramma. Con... Facendo tutte e due le cose con un solo computer. L'ho capito a mie spese ed è una brutta cosa. Però che dire, la sfiga mi colpisce sempre. Porca miseria a me e alla sfiga. Ormai sembra che io e la sfiga siamo nati i dei. Siamo nati nello stesso giorno e siamo nati i gemelli. Anzi, in realtà il mio gemello fantasma che mi seguo ovunque. E... No, vabbè. Lasciate, lasciate perdere, lasciate perdere. Sto sclerando manetta. E... Vabbò. Io adesso sinceramente devo andare in bagno perché mi sto scappando tantissimo. Perciò se il video vi è piaciuto... Scusate ancora se... Ieri non sono uscito a portarvi un video però... E... Se questo mini video minchiatello vi è piaciuto mettete un bel pollice all'insù. Commentate, condividete e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Degli AtFortTube è tutto. Scrivetevi al nostro canale.